Salve a tutti, questa è l'ultima parte del corso di base di Photoshop CC 2019, quindi con questa spero di avervi dato un'infarinatura abbastanza buona per permettervi di proseguire, quindi sperimentando oppure cercando altri corsi più avanzati che io non posso offrirvi perché appunto non mi reputo un esperto di Photoshop. Io vi ho semplicemente detto tante delle cose che sapevo, non tutte perché comunque io sto continuando a fare tutorial su Photoshop man mano che imparo cose nuove, quindi una volta finito il corso guardatevi tutti gli altri video della playlist tutorial Photoshop e perlomeno guardate la lista e aprite quelli che vi interessano oppure al momento stesso che dovete fare un effetto particolare. Quindi continuiamo con i filtri, abbiamo ancora il nostro sfondo copia e il nostro titolo prova su cui sperimentare. Allora filtro, sfocatura, qua ci sono forse i filtri un po' più utili di norma perché appunto la sfocatura è la cosa che più utilizzo io, ci sono vari tipi di sfocature, non solo qui ma anche qua, quindi sfocatura e galleria sfocatura. Qua c'è campo sfoca, ecco qua, quindi si può decidere qua a destra il grado ed ecco qua vedete lo sfondo che si sfoca. Sfocatura diaframma, ci sono tanti tipi di stile, poi vedeteveli con calma. Una volta fatto, ok, io faccio annulla. Allora passiamo subito, lasciamo queste appunto, lasciamole perché queste sono presenti tutte nel campo sfoca. Se cliccate su campo sfoca potete sceglierle come abbiamo visto prima, io ho scelto diaframma. Nitidezza, bordi nitidi, maschera di contrasto, nitidezza, nitidezza avanzata, nitidezza maggiore, vediamo nitidezza avanzata. Quindi per risaltare un po' i dettagli. Vedete? Questo è il fattore. Guardate la pietra qua, si vede benissimo. Quindi la nitidezza può dare un po' più di dettagli, raggio. Però se esagerate ovviamente diventa tutto finto. E qui può essere utile come un altro tipo di effetto, un effetto un po' più disegnato. Annulla. Abbiamo riduzione effetto mosso. Ricordatevi però che non c'è, se la foto vi è venuta mossa, io ho fatto un tutorial a parte per cercare di ridurlo, ma non si possono fare miracoli. Quindi se la foto è sfocata, è sfocata. Quindi rifatela possibilmente, perché una foto mossa è irrecuperabile. Si può leggermente migliorare un qualcosina, ma una cosa proprio impercettibile. Dai le prove che ho fatto io non ho mai avuto ottimi risultati. Poi, vediamo un po'. Selezioniamo ovviamente sempre il livello. Quando vedete che qua è tutto grigio è perché non avete selezionato il livello. Qua abbiamo rendering. Qua abbiamo delle creazioni, diciamo così. L'ho mostrato in altri video. Comunque abbiamo effetti di luce. Quindi qua possiamo creare delle luci. Ed ecco qua, vedete? Possiamo creare un faretto. Possiamo controllare lo spostamento, tutto, l'ampiezza. Vedete, guardate l'angolo centrale, il colore. Quindi qua basta giocare con questi settaggi e vi sperimentate il faretto. Poi, oltre al faretto abbiamo punto, quindi luce su punto, oppure luce su infinito. Ecco qua, annulla. Ovviamente anteprima attivata. Poi vediamo le fibre. Quindi qua possiamo creare proprio direttamente qualcosa. Quindi conviene farlo su un livello vuoto. Perché si va proprio a sovrascrivere tutto lo sfondo copia. Annulla fibre. Rendering. Quindi potete scegliere... ...la varianza, l'intensità, oppure casuale. Ecco qua. Questo è lo zoom. Annulla. Sempre in rendering abbiamo poi le nuvole. Ecco qua. Modifica annulla. Abbiamo poi le nuvole indifferenza. Ecco qua. Nulla. E poi abbiamo il riflesso obiettivo. Ecco qua. Questo è quell'effetto che naturalmente viene quando c'è quella certa angolazione ben precisa con il sole. Possiamo aggiungerlo. Ed è molto carino. Vedete. Annulla. Poi abbiamo sfocatura. Qua ci sono tutte le sfocature. Io uso spesso controllo sfocatura perché mi permette di scegliere il raggio. Ecco qui. Annulla. E poi qua ci sono altri tipi di sfocature. Stilizzazione. Questi sono effetti creativi. Quindi ad esempio dipinto ad olio. Poi abbiamo ad esempio l'effetto vento. Insomma sono tutti effetti creativi. Vi basta solo poi cercare e sperimentare. Ecco. Folata. Annulla. Solarizza ad esempio. Ecco qua. Poi vediamo ad esempio in video abbiamo interlacciate colori NTSC. Altro. Accento a passaggio e altre cose. Accento a passaggio l'ho utilizzato per un tutorial per creare un altro tipo di effetto. Quindi con i filtri abbiamo terminato. Adesso vediamo un paio di cosette da sapere. Allora selezionando. Anzi facciamolo con il testo. Selezionando un oggetto abbiamo già detto che utilizzando questi valori possiamo ridimensionarlo. Qua in modifica possiamo andare in trasforma e scegliere scala, ruota, inclina, distorci, prospettiva, altera. Se faccio ruota vedete adesso non è più il selettore della scala ma è solamente per il ruota. Oppure abbiamo anche direttamente trasforma, ruota 180 gradi ad esempio. e altre tipi di rotazioni. Abbiamo la riflessione in orizzontale ad esempio in verticale. Quindi per fare l'effetto specchio è qua. Adesso vediamo velocemente modifica preferenze generali. Poi potete cliccare qualsiasi di queste che tanto sono queste qui. Un po' come l'FX del livello. Allora qua ci sono delle impostazioni. Qua quella dell'interfaccia ad esempio. che vi consiglio di guardare. Importante questa. Vediamo un po' se era... Ecco la prestazioni. Qua possiamo scegliere di utilizzare un tot di gigabyte. Quindi in questo caso Photoshop ha il permesso di utilizzare fino a il 70% della memoria che sarebbe 10 gigabyte. Io ho 16 gigabyte in totale quindi gli consente di utilizzare tutta la RAM che vuole. Qua c'è quella disponibile. Intervallo ideale. Quindi mi dà un intervallo che secondo lui è ideale. Quindi dà un minimo a un massimo. Qua la spunta su usa processore grafico. Ovviamente perché voglio che la scheda video aiuti tutti i vari processi. Non vi consiglio comunque di sperimentare, cliccare, fare. Cioè questo al limite sì. Aumentare un po' la RAM o diminuirla un po' ma non andate a toccare valori se non sapete esattamente quello che state facendo. Qua c'è dischi e memoria virtuale. Qua gli ho dato l'unità disco più veloce. L'SSD che è quella di base già spuntata. Qua ci sono le unità di misura e righelli. Centimetri, punti, quindi le misure di default. Idem, risoluzione predefinita, nuovi documenti, risoluzione di stampa, risoluzione monitor. Qua è per disattivare la schermata iniziale. Lo potete spuntare se non la volete ogni volta che avviate Photoshop. Qua sopra finestra ci sono tutte le finestre aperte o non aperte. Guardate, livelli è attivata. Se io tolgo la spunta, quella dei livelli sparisce. Quindi se voi per sbaglio chiudete una finestra, tornate qui e la cercate. Livelli. Clicchiamo e la riabilitiamo. Ce ne sono molte altre da aprire. Alcune si aprono solo all'occorrenza. Altre le possiamo aprire noi forzatamente da qua, tipo pennelli. Eccolo qua, vedete? Con la X chiudiamo i pannelli. Poi possiamo spostarli, vedete? Ma io consiglio di lasciarli stare qui perché sono... Secondo me sono già messi nelle posizioni migliori. Poi se volete spostate i pannelli dove vi pare. Bene, quindi credo che possiamo terminare qui il tutorial. Abbiamo visto un bel po' di cose. Spero di esservi stato utile. Un saluto a tutti.